è successo di tutto ma quando dico di tutto è successo di tutto gol a profusione risultati clamorosi gioia per alcuni tifosi madonne per altri e sono qui per analizzare tutto quello che è successo in questa parte di quattordicesima se non mi sbaglio giornata di serie a ieri ci sono state anche altre partite domani ce ne saranno altre ancora di conseguenza ciao bentornati e ben ritrovati io vi invito a lasciare mi piace su questo video per supportare i miei contenuti calcistici e se domani volete in merito il parere del buon fabio sulle partite che sto per analizzare dobbiamo tornare anche sul sassuolo roma perché c'è una situazione molto molto particolare che ci riguarda quindi lasciate mi piace è gratis iscrivetevi e attivate la campanellina così ogni volta vi arriva la notifica in tempo reale sul cellulare quando pubblico qualcosa e c'ho anche un altro canale youtube di calcio parallelo a questo oggi ho pubblicato un day after abbiamo parlato di napoli e milan quindi se non siete iscritti sul secondo canale vi perdete vi perdete o non c'è più a parlare tanti contenuti calcistici fatelo anche lì e c'ho anche un terzo canale youtube extra calcio non vi faccio mancare niente tutti i canali in descrizione durante il video compariranno qui allora ieri non ho detto nulla su spezia udinese voglio dire rapidamente due paroline rezza gran bel gol quest'udinese che alla fine con l'ovriccia guanta il pareggio ma è un udinese ragazzi che si è nettamente ridimensionata rispetto all'avvio no di serie a nelle prime giornate sembrava una squadra veramente ingiocabile a tratti ma non troppo a tratti perché per un periodo è stata veramente un martello pneumatico no e e poi si è persa particolarmente per strada diciamo che si è assestata si sta un po' cullando sugli allori no come dicevo in un contenuto con il buon fabbio nel contenuto da 275 ore probabilmente la loro testa viaggia sul pensiamo a salvarci e del resto forse poi magari è una mia percezione sbagliata del resto ce ne frega poco o nulla io la sto interpretando così no comunque passiamo al primo risultato clamoroso di giornata che io vi avevo anticipato con i filtri che faccio su su instagram no squadra rivelazione da 4 è uscito il lecce e guarda caso ragazzi il lecce riesce addirittura a battere un atalanta che se oggi avesse vinto se sarebbe portata seconda in classifica gli stessi punti del milano e questo è un qualcosa di clamoroso perché se guardiamo la partita alla fine ragazzi ci può assolutamente stare la vittoria del lecce baschirotto e di francesco veramente un grande primo tempo questa atalanta che cerca di riprendere il risultato con duvan zapata nel secondo tempo è stato praticamente un monologo dell'atalanta o quasi che ci ha provato più e più volte no a cercare il gol del pari ma sto lecce ragazzi fa un doppio risultato clamoroso batte una big per eccellenza che si ridimensiona ulteriormente dopo questa sconfitta perché so tre le partite che perde nelle ultime quattro giornate ed è contro la lazio contro il napoli se non mi ricordo male e contro il lecce quindi capite bene che la dimensione dell'atalanta è cambiata nel giro veramente di di poche giornate continuo a pensare che l'atalanta sia una grande squadra e che possa dar fastidio a tantissime realtà importanti di serie a e due paroline rapide anche su torino sampdoria e poi ci concentriamo su su inter bologna diciamo che ragazzi io faccio veramente fatica ad inquadrare questa sampdoria non riesco ad inquadrarla come una squadra di calcio vi chiedo scusa continuo a ripeterlo da un po di tempo credo che la sampdoria abbia bisogno di una scossa ma una scossa dal punto di vista dei calciatori gli serve qualche calciatore importante qualche forza importante perché poi la personalità bene o male ce la mettono ma mi rendo conto proprio che gli manca quel piglio no sto torino radoncic blasic nel giro al settantesimo praticamente la partita l'aveva bella che bella che chiusa no torino classico di juric se così lo vogliamo definire è una vittoria che rilancia il torino per i suoi obiettivi stagionali ma che affossa ulteriormente la sampdoria mi voglio ovviamente focalizzare soprattutto su inter bologna ragazzi una goleada di quelle pazzesche ma il dato clamoroso è leggere la partita nel suo nella sua interezza se dice se così vogliamo dire perché il bologna era partito bene ragazzi il bologna era partito veramente bene ci aveva avuto un paio di occasioni e addirittura erano passati in vantaggio tiro di orsolini deviazione sta palla che entra in rete portiere dell'inter ovviamente onana che non può assolutamente nulla e chi non ha pensato lì quest'inter ferita nell'orgoglio da una juventus che alla fine no ha strappato una vittoria pesante una vittoria importante no carità don morale ai bianconeri e che un minimo sicuramente no ha affossato psicologicamente l'inter e poi esce la prestazione invece che io non mi aspettavo visto ripeto il vantaggio del bologna ma Edin Dzeko che gol fa il il gol dell'uno a uno di Edin Dzeko già ce li ha fatti vedere i numeri del genere però a riprova e a dimostrazione del fatto ragazzi che Edin Dzeko non è un calciatore finito come tanti hanno provato a definirlo tanti hanno provato ad affossarlo c'è chi diceva non ci sta più con le gambe io non l'ho mai pensato ho sempre pensato che Dzeko è un calciatore magari un po' discontinuo no che ovviamente c'è una certa età e non può giocare tutte e 38 le partite ad alti ritmi però quando gli ritagli quei determinati spazi lui ragazzi è ancora un giocatore decisivo Di Marco però oggi secondo me è il mattatore per eccellenza della serata e chiedo scusa se fino a un paio di settimane fa continuavo a dire ma perché non gioca Cosenz ma perché non gioca Cosenz Di Marco attualmente ragazzi è veramente un qualcosa di pazzesco sa battere i calci piazzati aggredisce gli spazi si inserisce mette palloni in mezzo sa dribblare è un giocatore veramente completo un giocatore che l'Inter si è costruita in casa e che si è ritrovato ed è attualmente veramente imprescindibile no poi sarà serata ovviamente anche per Lautaro Martinez il colpo di testa su assiste di Cianoglu Lautaro Martinez che ricambierà no il il favore il calcio di rigore lo batterà a Can Cianoglu addirittura è in gioco che fa l'assist per Cosenz ragazzi una serata che alla fine si è messa veramente bene per l'Inter Inter che può guardare diciamo con positività questa giornata perché mi viene ad esempio in mente l'Atalanta Atalanta che perde l'Inter che gli guadagna tre punti pieni su una diretta ad oggi concorrente a bocce ferme in pochi potevano aspettarselo e adesso sono appagliati agli stessi punti in classifica vedremo domani che fa la Lazio che ha 27 punti potenzialmente può riprendere il Milan però diciamo che la sconfitta con la Juventus arriva questa vittoria che anche per il risultato ampio no può dare sicuramente qualche certezza in più perché oggi abbiamo visto dei nerazzurri veramente vogliosi di fare vogliosi dopo lo svantaggio vogliosi di dimostrarsi all'altezza di questo campionato no potrebbe essere una partita della svolta difficile a dirsi perché manca una partita e poi si ferma il campionato quindi insomma è tutto dire no però l'Inter lancia sicuramente un segnale importantissimo a alle squadre che stanno che stanno davanti no anche sullo stesso Milan che che alla fine ha pareggiato con la Cremonese quindi gli guadagna due punti eh molto molto particolare come situazione e di Fiorentina ne parliamo domani col buon Fabio perché se no veramente regà fammo un contenuto di 745 ore mi piace commentate condividete iscrivetevi a tutti i canali social in descrizione e contenuti consigliati mamma mia ragazzi e che cos'è ciao Ciao